l'anticiclone di origine africana porta tempo stabile sulla nostra regione per quanto riguarda la giornata di sabato avremo in cielo in prevenza poco nuvoloso possibili velature in mattinata ma anche la possibile formazione di foschie durante le ore notturne sulla bassa pianura anche la possibile formazione di nubi basse nei fondo valle le temperature massime saranno abbastanza miti durante il giorno intorno ai 20 gradi sulla pianura e intorno ai 17 gradi sulla costa temperature piuttosto alte anche in quota lo zero termico intorno ai 3.700 metri condizioni simili anche per la giornata di domenica sempre tempo molto stabile con cielo in prevenza poco nuvoloso e la possibile formazione di foschie e nebbie soprattutto nelle ore notturne per quanto riguarda le temperature valori simili a sabato anche l'inizio della prossima settimana si presenta caratterizzato dalla stabilità atmosferica e anche dall'inversione termica avremo la probabile formazione di nebbie sulla pianura e sulla costa sia per lunedì che per martedì buon fin di settimana a tutti